Ciao, sono Natascha Lusenti e questo è il mio romanzo di esordio che ora è uscito anche in Polonia. Nel libro ho cercato di affrontare il tema della solitudine in modo poetico, raccontando di una ragazza che deve ritrovare l'orientamento dopo aver perso molto. In particolare si affiderà a un senso tutto suo dei colori che sono protagonisti in questa storia e poi a un piccolo nuovo amico e ai suoi due gatti. Per uno di loro mi sono ispirata alla mia gatta plush che vedete qui fotografata con me. Ciao!